Una è che siamo interisti, ma questa è intima. La seconda cosa è che io senza nessun merito sono stato il primo a parlare di lui, perché Rinson prima la spiga d'oro, per cui insomma è stata sorpresa allora, hanno seguito il Giannino in tante situazioni, in epoche non sospette lui ha aperto il do applicando l'alta tecnologia alle materie prime povere. Si inventò, è stata un'operazione di marketing eccezionale, il menù 11.5, 11 euro e mezzo. Grazie, se qui lui ha delle cose belle da spiegare sull'organizzazione del lavoro, chiedo che la prima parte sia, se qua, poi va a cucinare e poi torna qua. Grazie. Credo che ormai il gusto, il buon gusto, possa essere alla portata di tutti, che diventano tanti quando realmente si assaggiano i piatti e quindi per questo mi sono anche messo in testa che non si può essere alla portata di tutti.